Oh non stavo ne configurata quindi c'ho il back show control vai spingi 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 così lo levo questo è a potenza qui dentro qui girate lo sta a girare lui e fa tutta la parte bassa quindi dove sono in diritto e li fa tutto il circuito poi dopo se te la senti fai con Ugo e fai il giro lungo sempre se è fattibile farci lo lupo ok vai qui si è fattibile Grazie a tutti 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 Grazie a tutti